Che tipo di trader e investitore sei? E quanti tipi di trading e di investimenti esistono? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio farvi riflettere su un aspetto che soprattutto se siete all'inizio della vostra carriera di investitore o di trader si tende a non fermarci, a non riflettere. E a che cosa mi riferisco? Al tipo e all'approccio, allo stile di trading e di investimenti che avete sul mercato. Perché quando si pensa al trading si pensa ad un'unica tecnica, ad un unico approccio, ma in realtà la cosa non è così, le cose non stanno così perché la materia è veramente vasta e praticamente infinita. E ho provato a ragionarci un po' sopra e alla fine mi è venuto di dividere in quattro categorie, macro categorie, perché poi ci sono sotto categorie di queste però in quattro macro categorie gli stili per fare trading e per fare investimenti. Quali sono queste quattro macro categorie? Cioè l'investitore e il trader macro economico, cioè l'investitore e il trader quantitativo, quello tecnico e quello fondamentale. Andiamo un po' a vedere quali sono le quattro differenze e poi come al solito questo è un po' un video trampolino di lancio per darvi la possibilità di approfondire ma soprattutto di cominciare a farvi delle domande e chiedervi ma rispetto al mio carattere, rispetto a quello che sono io e come mi relaziono ai grafici, agli investimenti, al denaro, al far trading in quale di queste quattro macro categorie rientro e soprattutto su quali di queste macro categorie voglio approfondire, voglio studiare, voglio saperne sempre di più per questo credo sia importante questo video, per capire soprattutto che ci sono delle aree che dovete almeno all'inizio scegliere e sulle quali vi dovete concentrare, piuttosto che sparpagliare le energie e fare un po' di tutto che poi non serve a niente. E poi vi racconto anche qual è stata la mia strada. Allora cominciamo dal trader, dall'investitore che utilizza aspetti macroeconomici cosa vuol dire aspetti macroeconomici? Vuol dire che va a studiare aspetti politici, geopolitici di un paese va a capire quali sono le politiche della banca centrale di quel paese, tassi di interessi, tanto per dirne uno GDP, ovvero il PIL, il prodotto interno lordo di quel paese, come sta variando nell'ultimo periodo e va a controllare, a studiare aspetti macroeconomici relativi ad un determinato mercato per capire poi come comportarsi di conseguenza. Vi faccio un esempio, l'esempio più grande e famoso che posso portarvi il temuto George Soros che ha scommesso contro la lira, ha scommesso contro la sterlina e ha guadagnato miliardi di dollari, mettendo tra l'altro in ginocchio dei paesi, ragazzi. È anche una categoria di investitore e di trader molto odiata. Secondo me è un tipo di trading che faccio in piccola misura ma secondo me è un tipo di trading che si fa soprattutto quando si hanno grandi capitali. Ma poi vi racconto di nuovo la mia esperienza. Quindi abbiamo capito e un po' incasellato questo primo stile. Seconda parte, tecnico. Il trader tecnico, l'investitore tecnico. È quello che si basa sulla price action, sul grafico che guarda come si sta muovendo il grafico, che va a studiare il momento, il trend del grafico e che ne va a identificare dei pattern per capire poi come comportarsi, per cercare di capire appunto quale potrebbe essere il prossimo movimento del prezzo. L'analisi tecnica, ragazzi, è basata su studi fatti sui grafici e sono stati identificati dei pattern ed è stato visto nel tempo che statisticamente parlando le probabilità con cui la price action si è comportata dopo la formazione di un pattern statisticamente tendevano a ripetersi. È proprio su questa assunzione che il trader tecnico basa i propri studi e la propria operatività. Quindi su vari time frame, può scegliere time frame mensili, può scegliere time frame settimanali, giornalieri o addirittura orari o ancora più bassi. Però si basa su aspetti tecnici legati al grafico. Per il trader, l'investitore tecnico, il grafico è la mappa che gli dice come comportarsi. E poi abbiamo l'investitore, il trader quantistico, ok? O meglio, quantitativo più che quantistico, scusate, il quantitative sarebbe in inglese, trader. Il quant trader, spesso avrete sentito questa, no? Come diventare un quant trader. Il corso che sto facendo io, ragazzi, per sviluppare trading system fa parte proprio di quest'area, cioè dell'area del quantitative trading. È un approccio totalmente automatico, totalmente basato sulla matematica, sugli algoritmi, sulla statistica, sulle probabilità. Ci sono quindi algoritmi, robot, expert advisor, chiamateli come volete, pezzi di programmi che vanno a scansionare il mercato. Non appena si verifica lo scenario di mercato per il quale sono attenti o hanno i radar puntati, vanno a creare automaticamente le operazioni al posto vostro. Infatti il quant trader o il quant investor è un investitore che lavora in maniera automatica, totalmente meccanica, lascia la parte emotiva, nemmeno guarda che succede sul grafico, ma guarda solo il codice del suo robot e, che cosa è importante, il backtesting, la statistica del passato, di come nel passato si è comportato su quel mercato, a quel time frame, il suo algoritmo automatico. In questa categoria, ragazzi, rientra anche l'high frequency trading, high HFT, che però viene fatto da grandissime banche e grandissimi istituzionali che possono permettersi ingenti investimenti, non tanto solo in computer, ma soprattutto in banda, in velocità di trasferimento dati, perché l'high frequency trading si basa sull'apertura e la chiusura di posizioni nel giro dei millisecondi. Comunque rientra anche questo in questa categoria. E poi infine abbiamo l'investitore e il trader fondamentale, cioè quello che va a studiare gli aspetti fondamentali di un mercato, di un'azienda, va a studiare gli economics, va a studiare i balance sheet, va a studiare il cot, va a studiare il cash flow, tutti gli aspetti fondamentali di un mercato per capire se in quel mercato c'è valore e investire in quel mercato. Viceversa, se quel mercato tenderà a scendere quell'azione, quell'azienda, per esempio, nel futuro, nel prossimo futuro tenderà a deprezzarsi e quindi investire non comprando, ma investire andando short, quindi aprendo posizioni short, quindi in sell. Ragazzi, queste credo siano le quattro macro-categorie. E voglio dirvi un po' come ho iniziato io, perché un errore che si fa all'inizio col trading, proprio perché non si hanno queste quattro macro-categorie in mente, si va a studiare un po' di tutto, quindi un pezzo di analisi fondamentale, un pezzo di analisi tecnica, un pezzo di trading automatico quantitativo, un pezzo di macro-economico, e si ha sempre la sensazione che non si ha mai il polso di quello che sta accadendo, perché effettivamente avete messo troppe informazioni dentro la testa e non avete approfondito bene un settore. Quindi il mio consiglio è, in base al vostro carattere, scegliete qual è la direttrice che volete seguire e approfonditela, studiate, leggete, fate esercizio, fate pratica, createvi le strategie e il trading plan di un filone di questi quattro che vi ho detto. E poi, quando siete padroni, quando padroneggiate quel filone, allora passate ad un successivo. E adesso qui vi racconto la mia storia. La mia storia comincia con il mio vicino al mondo del trading dal punto di vista della programmazione, perché sono un programmatore, programmo da più di vent'anni, e quindi per me è stato fisiologico, no? Avvicinarmi al mondo del trading cominciando a programmare. Quindi ho cominciato come quant trader. E poi da lì mi ha affascinato dopo aver programmato dei robot e aver visto che tra l'altro le cose funzionavano e andavano bene, ho allargato il mio bagaglio di conoscenza, perché la materia mi ha affascinato estremamente, e ho studiato la parte tecnica. Quindi ho approfondito l'analisi tecnica, ho approfondito i pattern di analisi tecnica, i pattern armonici, il Fibonacci trading, tutto quello che fa appunto parte della sfera di analisi tecnica. E ho cominciato a crearmi le mie strategie diversificando il portafoglio. Quindi avevo parte degli investimenti che facevo con trading automatico e parte del capitale che investivo e con il quale facevo trading facendo analisi tecnica. E poi mi sono affascinato e mi ha, diciamo così, preso la parte macroeconomica. Quindi ho studiato bene la parte del valutario, del forex, che è stato il mercato che ho più nel cuore perché è stato il mercato con cui ho cominciato. Quindi tutti gli aspetti di macroeconomia, quali sono le news macroeconomiche che impattano di più sul mercato e quindi l'unemployment rate, per esempio, tutte le press conference delle banche centrali, l'allandamento degli interest rate, il prodotto interno lordo, il GDP, ma anche tutti gli indicatori economici relativi alla produzione di un paese. E poi, infine, è stato l'ultimo percorso, ho approfondito la parte di analisi fondamentale perché ho cominciato a costruirmi un portafoglio di lungo termine investendo sull'azionario, azionario ed obbligazionario per diversificare il portafoglio, e ho dovuto cominciare a capirne di accounting, quindi della parte degli economics di un'azienda, come si fa a scegliere un'azienda basandosi sul valore o sulla crescita dell'azienda, l'approccio Warren Buffett o l'approccio Peter Lynch, tanto per, diciamo, tirarne in ballo due di questi. E quindi è stato un percorso affascinante e lungo, ragazzi, questo voglio dirvi, non abbiate fretta, questo è un percorso che dura tantissimo tempo, io questo percorso non l'ho fatto in sei mesi, non l'ho fatto in un anno, è stato un percorso di più di dieci anni di studio, di pratica, e ancora non ho finito di imparare, non sapete quante cose ancora imparo ogni giorno, in che modo? Leggendo libri, partecipando ad altri corsi, perché pensate che il fatto che sono dieci anni che faccia trading, pensate che non abbia ancora cose da imparare? No, assolutamente no, si impara sempre tantissimo, si impara dai propri errori, ma si impara soprattutto dagli errori degli altri, ecco perché continuo a investire sulla mia formazione professionale, continuo ad investire facendo io altri corsi, andando all'estero a fare altri corsi, scegliendomi i docenti o i mentor che nel passato mi hanno accompagnato, quelli che mi piacciono più nel presente, perché magari voglio approfondire in maniera proprio con il laser, con il mirino, voglio andare ad approfondire una tematica, e quindi mi vado a cercare l'esperto in quella determinata materia. Quindi ragazzi, non abbiate fretta, i miei consigli sono due, non abbiate fretta, è una materia che non si impara in un giorno, non si impara in un anno, non si padroneggia in qualche mese, datevi il tempo. Secondo consiglio, iniziate con una di queste quattro macro categorie, studiatela e focalizzatevi su quello, non fate l'errore di saltare di palo in frasca, da un concetto ad un altro, che sono poco relazionati, sperando poi di mettere tutto insieme, no, qui dovete essere un po' verticali, prima un pezzo, poi ci aggiungete il secondo, poi il terzo, poi il quarto, e poi siete in grado di mettere tutto insieme, e mettere tutta la vostra conoscenza a fattore comune, per aumentare e avere un vantaggio statistico, aumentare le probabilità del vostro far trading, del vostro investire. Ragazzi, un like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere qui sotto, se mai avevate pensato a quale macro categoria appartenevate come trader, o se già sapete a quale di queste appartenete, scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono curioso di sentire anche la vostra storia. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!